ciao prima di iniziare metti un mi piace e premi il tasto iscriviti vi siete mai chiesti come possano finire in modo incredibile le relazioni paolo ruffini e della sua straordinaria separazione da diana del bufalo tutto è iniziato con una bellissima e semplice storia d'amore paolo ruffini il rinomato comico italiano si apre sulle sue esperienze in una recente intervista alla rivista oggi ma non sapeva che una cena fatidica avrebbe cambiato tutto stavamo passando un bel momento godendoci la compagnia reciproca quando diana mi ha rivelato qualcosa che mi ha lasciato senza parole ha semplicemente detto non posso più continuare a stare con te io ho accettato ed è finita è stato inaspettato per dir poco le conseguenze della separazione non sono state facili per nessuno dei due paolo ammette che entrambi hanno attraversato un periodo difficile ma non nutre rancore nei confronti di diana e le augura solo successo nella sua carriera musicale in effetti di recente sono andato a vederla esibirsi nel musical sette spose per sette fratelli e le ho portato un mazzo di fiori ha apprezzato il gesto e sono sinceramente felice per lei paolo ruffini l'amore è una cosa incredibile è qualcosa che non possiamo decidere di spegnere coscientemente inevitabilmente c'è una intelligenza superiore in noi che ci spinge ad amare e adesso sono felice di essere con barbara la mia compagna grazie a tutti